Perfettamente, allora posso amostrare, tornare, quindi se non sono autorizzati per sostenere azione con la possibilità di ottenere. Per assumere il massimo di attenzione, entrerà alla decisione di attenzione, la possibilità di portare alla decisione a comprensione. Grazie. 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 Allora, Sergio, buongiorno è venuto al coro, non lo sente? Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. È stato dominato più volte nel corso di questo dibattimento, quindi credo che lei abbia un po' da giudici. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.